Benvenuti a questa nuova video lezione del corso di preparazione alla fase di istituto in generale contenuti di base per le gare delle olimpiadi della matematica sia individuali che a squadre e come nella precedente sono Sandro Pistori e ci occuperemo di algebra di questioni di questioni algebriche. In particolare vorrei presentarvi delle relazioni semplici ma molto potenti che permettono di risolvere delle situazioni apparentemente anche un po' intricate. Le prime relazioni che vediamo sono le cosiddette formule di Viet Girard. Il primo che le utilizza a Viet Girard ne dà una spiegazione un po' più articolata e un po' più consapevole. A noi chiaramente questo non interessa direttamente però vi invito a vedere la storia di queste formule anche dal punto di vista di chi le ha introdotte per prima in maniera consapevole. L'ambiente è questo, abbiamo come sempre il nostro solito, facendo riferimento ai appuntamenti scorsi, polinomio e lo prendiamo monico. Vedremo in seguito che questa condizione non è in realtà una condizione restrittiva. Queste formule poi le potremmo applicare anche in generale a tutti i polinomi e non solamente quelli monici. ma adesso per comodità ce lo prendiamo monico. Quindi la scrittura che abbiamo già visto quindi polinomio monico di grado N. Ecco, in realtà queste formule si applicano a polinomi a zeri complessi, si dice. Io parecchi di voi penso non hanno mai visto e mai preso un po' in considerazione i numeri complessi, quindi diciamo non consideriamo il caso appunto generale, ma prendiamo un polinomio e ipotizziamo ecco che questo polinomio a coefficienti reali ammetta zeri, nzeri, ok? Non necessariamente tutti diversi tra loro, però li ammette nzeri. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che ammette il massimo numero di zeri possibili, perché un polinomio di grado n può ammettere al massimo nzeri, cioè si può annullare al massimo in n valori. Ripeto, non tutti distinti. Quindi i nostri x1, x2, xn siano gli zeri del polinomio, ok? Ricordiamo cos'è uno zero, il polinomio si annulla, va bene? Quindi i che va da 1 a n, ok? Bene, chiaramente equivale a dire che l'equazione di grado n ammette n soluzioni, ok? Ripeto, non necessariamente tutte distinte. Cosa sappiamo noi? Beh, noi sappiamo che per il teorema di Ruffini il mio polinomio è scomponibile esattamente con n fattori di primo grado. Quindi il mio polinomio PDX dire che ci sono nzeri vuol dire che si fattorizza esattamente con n fattori di primo grado, come abbiamo scritto, ok? Quindi n fattori di primo grado costruiti in questo modo qua, con appunto le mie x i che rappresentano gli zeri del polinomio. Ecco, c'è una relazione molto stretta tra gli zeri e i coefficienti del polinomio, ok? In particolare le formule di Dieter-Girard ci dicono cosa? Ci dicono che il coefficiente a n-1, quindi il coefficiente della potenza n-1 è l'opposto della somma di tutti gli zeri. Ripeto, possono essere anche ripetuti alcuni di questi. Ok? Il coefficiente. Quindi diremo sostanzialmente che x1 è forse meglio vederla al contrario, è uguale all'opposto di quel coefficiente. E l'altra cosa semplice è che il prodotto di questi zeri è il termine noto del mio polinomio con il segno che dipende dal grado del polinomio. Se il grado è pari, il segno è lo stesso, se il grado è dispari, il segno è l'opposto. E tutti gli altri? Beh, tutti gli altri si costruiscono in maniera abbastanza semplice, ovvero la somma di tutte le coppie di prodotti quindi prendi tutte le coppie che puoi formare con gli n zeri e moltiplica e somma. Bene. Ciò che ottieni è esattamente il coefficiente della potenza n meno duesima. Ok? E poi, e poi, vabbè, abbiamo capito, le terne le terne e avanti, l'ultima sarà xn meno 2, xn meno 1, xn l'opposto quindi avanti così a segni alterni e otteniamo quelle che appunto sono le cosiddette formule di Viette. In realtà, di queste formule di Viette tutti voi dovrete conoscere la versione col polinomio di secondo grado perché la versione col polinomio di secondo grado sono le classiche relazioni che normalmente si fanno quando si fanno le equazioni di secondo grado oppure quando si fanno la cosiddetta scomposizione con la somma prodotto perché se abbiamo il nostro polinomio di secondo grado quindi questo lo chiamo B di x e questo lo chiamo C invece di chiamarlo A1 e A0 bene, cosa ci dice Viette? Beh, ci dice che se x1 e x2 sono i nostri zeri oppure in alternativa le soluzioni delle equazioni di secondo grado vedetela come volete voi insomma, spero che abbiate capito ma soprattutto questi ci sono insomma e beh, allora Viette ci dice che x1 più x2 è uguale a meno B e che x1 per x2 è uguale a C e che sono le due relazioni che si imparano quando fate la scomposizione col trinomio caratteristico come si chiama di solito in prima oppure quando fate l'equazione di secondo grado in seconda che studiate le relazioni tra le radici di un'equazione e appunto i coefficienti delle equazioni in secondo grado Bene, andiamo subito a vedere alcune applicazioni di queste relazioni in modo da capire come si sfruttano insomma come si riesce a risolvere dei problemi anche abbastanza apparentemente complessi ecco, perché normalmente si chiedono di risolvere dei valori di trovare dei valori di relazioni strane che coinvolgono le radici di un'equazione di grado n oppure appunto gli zeri di un polinomio senza magari conoscere addirittura addirittura nel polinomio nell'equazione se non se non impatta ecco, quindi andiamo andiamo a vedere quindi ho preparato tre tre esempi e direi di di andare ad affrontare a uno a uno allora andiamo a recuperarci il primo esercizio ecco qua l'esercizio dato il polinomio p di x in questione ecco calcolare il valore dell'espressione 1 fratto x1 per x2 per x3 più 1 fratto x1 per x2 più x4 dove x1 x2 x3 e x4 sono nell'usuale annotazione le radici del polinomio quindi se volete lo aggiungo dove x1 x2 x3 e x4 sono le radici di p di x ok allora questa è una tipica situazione semplice la prima insomma in cui dovete dovete sostanzialmente accorgervi che si risolve con viet ok come sempre quando di fronte ci troviamo una somma di frazioni algebricche la cosa che si fa ormai penso che ne abbiate viste di esperienze la cosa che si fa è fare il denominatore comune ok quindi facciamo il denominatore comune di quell'espressione lì e cosa ci accorgiamo beh ci accorgiamo che chiaramente il denominatore comune è il prodotto dei quattro dei quattro delle quattro radici e cosa rimane beh qua rimane x4 al numeratore qua rimane x3 qua rimane x2 e qua rimane x1 quindi cosa ci accorgiamo beh ci accorgiamo che la nostra espressione data non è altro che il rapporto tra la somma delle radici e il prodotto delle radici quindi appunto usando le relazioni di Viette cos'è che sappiamo noi sappiamo che la somma chi è la somma la somma è l'opposto del coefficiente della potenza di x alla terza attenzione non l'ho detto ma la cosa è importante aver notato che è il polinomio ammonico ok va bene la seconda cosa cos'è che prendiamo in considerazione anche beh il prodotto l'altra cosa vero l'altra notazione il prodotto chi è il prodotto è il termine noto con il segno cambiato del segno a seconda del grado nel momento che il grado è pari si mantiene il segno il segno che c'è e quindi e quindi eccolo qua meno 3 fratto 6 e quindi il risultato di quell'espressione lì non conoscendo assolutamente le radici quindi non mi metto nemmeno a risolvere l'equazione potrebbe anche benissimo essere che le radici di quel polinomio che gli zeri di quel polinomio non siano tutti zeri cosiddetti reali ma ci possano essere anche zeri complessi ripeto potrebbe benissimo essere che voi non sappiate nulla degli zeri complessi dei numeri complessi non è importante il bello della cosa è che comunque vada la soluzione il valore il valore di questa espressione sarà meno un mezzo indipendentemente da chi siano da chi siano questi zeri quindi molto molto rapido questa potrebbe benissimo essere una domanda da gara di istituto che prevede una magari risposta multipla e la si trova quindi un un acquisito che se io non so queste relazioni mi diventa veramente arduo assolutamente risolverlo va bene trovare il valore bene andiamo a considerare adesso il seguente esercizio il 3.7 è un esercizio estratto dalla prova di cesenatico ecco quindi forse siamo di un livello leggermente superiore a quello per il quale stiamo lavorando però vedrete che insomma diciamo che è stata un'annata fortunata quella che ha previsto questo questo problema alle nazionali perché insomma non è non è forse così impegnativo e chiede di determinare per quali valori di n per quali valori del del parametro n presente all'interno di questa equazione le soluzioni appunto dell'equazione sono numeri interi ok quindi le soluzioni tutte le soluzioni quindi le tre soluzioni dell'equazione sono numeri interi ecco non si parla di polinomio si parla di equazione ma ripeto c'è perfetta corrispondenza tra risolvere un'equazione e trovare gli zeri di un polinomio insomma va bene quindi assolutamente stiamo all'interno della medesima della medesimo contesto della medesima situazione allora cosa possiamo sapere noi di di queste soluzioni cosa possiamo sapere beh innanzitutto chi sono le nostre soluzioni come sempre x1 x2 e x3 siano le soluzioni anche qua non è necessariamente tutte distinte soluzioni dell'equazione ma per viet quello che so e che posso scrivere è che la somma di queste soluzioni deve fare l'opposto del coefficiente del termine visto che è un'equazione un polinomio di terzo grado del termine di secondo grado ma nell'equazione il termine di secondo grado non c'è e quindi meglio ovvero dire è zero poi la somma dei prodotti costruiti con le coppie di queste tutte le coppie di queste radici 1 3 e poi x2 x3 questo deve fare il coefficiente del termine di primo grado e quindi meno 3 e poi c'è il prodotto x1 per x2 per x3 dato che è un polinomio dispari troveremo che è l'opposto del termine noto quindi è meno n quindi noi abbiamo queste tre relazioni sulle radici intanto le ho scritte bene adesso dovremmo in qualche modo arrivare a scrivere una relazione dove diventa semplice studiare i casi che i casi possibili che la rendono vera in termini di numeri non dimentichiamo ucciderò i numeri interi devono essere numeri interi quindi noi dovremmo capire quali sono i numeri interi possibili affinché una determinata condizione sia possibile ecco quelle che abbiamo scritto di per sé si viene coinvolta in questo il mio parametro è chiaro che di per sé isolare e considerare questa non mi dice sostanzialmente poco o niente perché in realtà questi qua soluzioni intere che questo siano intero hai voglia insomma ecco quindi bisogna avere un'idea che possa in qualche modo restringere restringere il campo ecco normalmente in questi esercizi le relazioni belle diciamo da prendere da tenere in considerazione sono oltre a quelle che abbiamo già scritto sono le somme le somme delle potenze delle radici o le potenze delle somme ecco ci giochiamo in questa in questa situazione però in particolare spesso e volentieri si cerca di andare a recuperare quali sono i valori delle delle somme delle potenze cappesime chiamiamole così delle delle radici cioè quelle che potremo simbolicamente andare a scrivere in questo caso in questo modo va bene ecco probabilmente vedremo anche delle relazioni altrettanto importanti di un livello un pochettino più superiore che coinvolgono che coinvolgono queste queste scritture ecco per ora vi dico che gli esercizi di questo tipo non è spesso non è male anzi diventa la chiave la chiave risolutiva del problema stesso recuperare alcuni valori per queste per queste somme e chiaramente si parte da dalla base insomma ecco quindi nel nostro caso ad esempio se io riuscissi a capire quanto deve valere quanto deve valere ad esempio la somma dei quadrati ok quanto deve valere la somma dei quadrati e scoprissi un determinato valore e se sono fortunato magari un valore anche anche noto diventa più semplice ragionare sulla possibilità intera per questi x1 x2 x3 ok quindi il tentativo è recuperare il quadrato ok ripeto perché non il cubo beh insomma perché aspettiamo complicarsi la vita prima prendiamo i quadrati e dopo pian piano saliamo insomma ragazzi ragazze ragionate sempre in termini di problem solving questo è vero problem solving cioè le regole ci sono però sono strumenti e le dobbiamo inserire spesso e volentieri attraverso all'interno di strade di percorsi che non sono preventivamente segnati adesso io vi faccio vedere una situazione che potrebbe essere potrebbe capitare più volte ecco quindi magari la avete già vista una volta o che bello la prossima volta la riconoscete però spesso nelle gare nei problemi di gara bisogna più si sale di difficoltà e più bisogna avere strategie che insomma dopo magari non portano frutto e bisogna essere pronti a ritrattare e a riprovare insomma ecco quindi è chiaro quindi non ci sono di per sé regole da applicare punto e basta si deve alle volte lavorare su percorsi su percorsi risolutivi allora devo farmi saltar fuori il valore di questa di questa somma un'idea ripeto ci saranno delle formule che che torneranno molto utili va bene però per adesso quelle non le conosciamo e ci lavoriamo un pochettino va bene questa non la so però 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 io riesco a recuperarmi questa questa qua riesco a recuperarmela perché perché so quant'è x1 più x2 più x3 questa qua è 0 e quindi 0 la seconda è 0 ok quindi questa so però attenzione che so anche scrivere in un altro modo questo quadrato vero perché sfruttando il prodotto notevole questa la si scrive così più 2 volte x1 x2 più 2 volte x1 x3 più 2 volte x2 x3 che quindi può diventare x1 alla seconda più x2 alla seconda più x3 alla seconda più 2 volte e poi la somma x1 x2 più x1 x3 più x2 x3 ed ecco che ci sono tutte cose che appunto noi sappiamo qua qua c'è qua c'è scusate qua c'è la somma delle radici che già abbiamo detto che sappiamo essere 0 e qua c'è quel famoso prodotto somma dei prodotti delle coppie va bene? che sappiamo essere eccolo qua che sappiamo essere meno 3 bene e quindi cos'è che posso scrivere? posso scrivere che 0 è uguale a cosa? è uguale a x1 alla seconda più x2 alla seconda più x3 alla seconda 2 per meno 3 meno 6 e quindi eccola lì che abbiamo recuperato la nostra la nostra la nostra relazione che a cui puntavamo sostanzialmente non non è vero e beh adesso attenzione cosa c'è scritto qua c'è scritto che la somma dei quadrati delle radici che vogliamo essere numeri interi devono fare 6 e non c'è tantissime possibilità di ottenere 6 come somma di cosa sostanzialmente attenzione di numeri che sono interi e che sono dei numeri quadrati va bene sono dei quadrati perfetti quindi i quadrati perfetti noi li conosciamo sono 1 4 9 va bene questo è già fuori vero quindi la possibilità è costruire solamente il 6 con l'1 e il 4 quindi senza perdere un po' cioè come ci accorgiamo un po' la questione è tutto quanto simmetrico qua vero quindi io posso tranquillamente pensare che per simmetria dopo si possono scambiare ma intanto quello che posso immaginare è che 2 è l'unico l'unico modo vero è l'unico modo per ottenere 6 è che 2 dei quadrati valgano 1 e 1 valga 4 non vedo alternative ok quindi ripeto senza perdere di generalità per simmetria dopo si possono scambiare però per ora posso dire che x1 la seconda e x2 la seconda valgano 1 e che x3 la seconda valgano 4 ok e quindi e quindi che x1 e x2 sia più o meno 1 stiamo lavorandoci numeri interi e x3 sia più o meno più o meno 2 ok e beh vabbè adesso cosa andiamo a prendere beh adesso andiamo a recuperare il alcune informazioni che avevamo no avevamo in particolare che la somma deve fare deve fare 0 va bene la somma deve deve fare 0 e vabbè se la somma deve fare 0 cosa può accadere beh può accadere che x1 e x2 valga 1 e x3 valga meno 2 oppure che x1 e x2 valgano meno 1 e che x3 valga 2 beh ma allora se noi consideriamo queste terne andiamo a prendere in mano la nostra ultima relazione che era quella che metteva in dipendenza il parametro da tutto eccolo qua e quindi cosa scopriamo beh scopriamo che se noi andiamo a fare il prodotto di queste giusto x1 x2 cosa otteniamo se noi andiamo a fare il prodotto di queste otteniamo 1 per 1 per meno 2 uguale a meno n e quindi n uguale a 2 ma la stessa cosa se noi andiamo a sostituire anche le altre nostre i nostri tre valori eccolo qua cosa succede beh meno 1 per meno 1 per 2 cosa otteniamo facilmente giusto mi pare di ok di aver fatto la sostituzione corretta se sostituiamo le altre cosa otteniamo otteniamo chiaramente meno 2 no perché meno 1 per meno 1 per 2 uguale a meno n e quindi 2 uguale a meno n eccolo qua n uguale a meno 2 e quindi conclusione finale dell'esercizio n uguale più o meno 2 quindi gli unici valori la domanda per iniziare gli unici valori che rendono le tre soluzioni dell'equazione intera quindi gli unici valori che rendono intere le tre soluzioni dell'equazione per n sono più o meno 2 li abbiamo trovati tutti ed ecco qua il terzo esempio un terzo esempio in cui appunto sempre utilizziamo le formule di viette però in maniera un pochettino forse un po' più articolata ecco diciamo leggiamolo abbiamo un polinomio pdx cubico va bene quindi potenza 3 vero terzo grado polinomio cubico supposto che valga questa relazione un po' particolare attenzione il polinomio non lo conosciamo il valore quindi del polinomio calcolato in un mezzo più il valore del polinomio calcolato in meno un mezzo fratto il valore del polinomio calcolato in zero deve fare mille quindi sapendo questo trovare la somma di questi rapporti dove come sempre x1 x2 x3 rappresentano le tre stiamo parlando di un cubico le tre i tre zeri va bene le tre soluzioni ok dell'equazione associata sostanzialmente quelli rappresentano gli zeri del polinomio le radici del polinomio bene allora partiamo chiaramente con lo scrivere il mio polinomio cubico pdx che in tutta generalità è uso invece permettetemi di usare una simbologia diversa dalle precedenti così ci abituiamo anche a non fissarci sempre sulle stesse in generale il polinomio una cubica un cubico un polinomio cubico non è monico ok quindi ecco se volete anche la novità un po' rispetto ai casi precedenti beh così facciamo vedere che le formule di Viette si si enunciano utilizzando i utilizzando i polinomi monici però in realtà si possono anche applicare tranquillamente nei casi generali bene andiamo a scrivere andiamo a scrivere la nostra relazione è vero che cosa significa P di un mezzo beh P di un mezzo significa questa cosa qua A per un ottavo più B per un quarto più C per un mezzo più D ok e P di meno un mezzo significa A di meno un ottavo più B di un quarto meno C lo metto così di un mezzo più D e P di zero chiaramente significa A di zero più B di zero più C di zero più D queste sono le nostre scritture ora cosa succede beh attenzione noi possiamo rendere questo polinomio monico possiamo rendere questo polinomio monico apparentemente monico andando a raccogliere l'A quindi il nostro polinomio originale che non era monico risulterà il prodotto di un polinomio monico moltiplicato per un coefficiente A che è proprio il termine del grado massimo insomma va bene questo sostanzialmente cosa mi permette di fare beh mi permette di fare di riscrivere le nostre tre relazioni le nostre tre relazioni in termini di questi coefficienti ok perché perché se noi adesso andiamo a riscrivere P di un mezzo lo possiamo riscrivere così vero P di un mezzo lo possiamo riscrivere A che moltiplica un ottavo è come se andassi a sostituire qua vero più B fratto A un quarto più C fratto A per un mezzo più D fratto A è lo stesso P di meno un mezzo A che moltiplica meno un ottavo più B fratto A per un quarto meno C fratto A per un mezzo più D fratto A e P di zero A che moltiplica una serie di zeri e l'ultimo D fratto A ok quindi se per noi adesso questo è B fratto A è il nostro coefficiente di grado del grado 2 ok questo è il coefficiente questo è il coefficiente di grado 2 del grado 2 questo è il coefficiente di grado 1 questo è il coefficiente del grado di grado zero e termine noto e a questo polinomio si utilizzano si può applicare quelle le formule che abbiamo visto perché il polinomio è monico e il termine A che fine fa beh il termine A nella scrittura originale che adesso andremo a a calcolare si semplifica quindi andiamo a scrivere P di un mezzo e P di un mezzo è A per un ottavo più B fratto A che posso anche scrivere così almeno A 2 per un quarto più A 1 per un mezzo più A zero tornando alla scrittura più A che moltiplica meno un ottavo più A 2 per un quarto meno A 1 per un mezzo scusate andiamo a riscrivere meglio la cosa quindi è A che moltiplica un ottavo più A 2 per un quarto più A 1 per un mezzo più A zero più A che moltiplica meno un ottavo più A 2 per un quarto meno A 1 per un mezzo più A zero tutto fratto A che moltiplica a zero ok? questo per quello che sappiamo noi deve fare miglia mi pare mi pare se non mi sono perso qualcosa deve fare mille ok e bene ok e quindi cosa diventa la nostra relazione innanzitutto quello che possiamo fare è che questo si può semplificare ok questa si può semplificare quindi diventa tutto quanto indipendente dal dalla dal coefficiente del grado massimo quindi effettivamente il fatto che non fosse monico quello non non disturba ok eh però adesso si può fare un po' di calcoli quindi qua sopra cosa succede succede che un ottavo dovrebbe semplificarsi se non sbaglio un ottavo se ne va via con questo meno un ottavo ma non solo ovvero questo un mezzo a uno se ne va via con questo meno un mezzo a uno e quindi e quindi cosa rimane rimane un un quarto più un quarto a due quindi diventa un mezzo a due un mezzo a due più due a zero ok fratto a zero uguale a mille va bene e quindi cercando di esplicitare ad esempio rispetto a a due vediamo cosa otteniamo otteniamo che un mezzo a due più due a zero uguale a mille a con zero ok e quindi un mezzo a due uguale a 998 a zero da cui a due uguale a 1996 a con zero e questa è una prima relazione che deduciamo e adesso vediamo se questa è sufficiente questa informazione è sufficiente speriamo di sì chiaramente per poter affrontare quello che dobbiamo risolvere ovvero trovare il valore di questa espressione questa espressione è la nostra solita abbiamo già vista prima come vedete le situazioni si ripetono è la nostra solita somma di alcuni prodotti incompleti delle delle radici beh cosa si fa come prima si va a fare il denominatore comune e il denominatore comune è il prodotto di tutte e tre quindi la nostra somma era questa x1 più x1 x3 più e quindi questa la posso scrivere è esattamente la stessa situazione di prima prima avevamo un quarto grado adesso abbiamo tre grado tre questo qua è la somma quindi sempre per viette sempre per viette queste sono le radici vero della nostra della nostra del nostro polinomio osserviamo vero che le radici di questo polinomio sono esattamente le radici anche di questo polinomio l'abbiamo detto prima un po' correndo forse ma lo rimarchiamo adesso cioè nel momento in cui ciò che annulla ciò che annulla questo ciò che annulla questo moltiplicato per a è questo qua annullerà quindi anche questo perché qua non ho fatto altro di mettere in evidenza un fattore che è diverso da zero in quanto il coefficiente di x alla terza è diverso da zero quindi quindi chiaramente se si annulla questo è perché si annulla questo quindi gli zeri di questo polinomio sono tutti e soli gli zeri anche di questo polinomio ok? gli stessi e quindi e beh quindi allora qua posso usare le relazioni di viette utilizzando quello che abbiamo scoperto prima eh no la somma adesso chi è la somma? la somma delle radici è meno a2 il prodotto degli zeri il prodotto delle radici cos'è? siamo in un termine in un polinomio di terzo grado quindi è meno a0 per viette è vero? vi ricordate? è meno 1 n a con 0 il prodotto e quindi nel nostro caso n è 3 quindi è col segno meno e quindi è a con 2 fratto a con 0 ecco che però adesso mi vado a scoprire vero che questa qua è proprio la relazione che mi torna utile adesso la relazione tra con 2 e a con 0 perché? perché questo adesso 1996 a con 0 fratto a con 0 ed eccolo qua 1996 era una gara squadre ok? era una grande squadre bello ho trovato il mio numero intero da dare nel bigliettino consegna il consegnatore parte e va a scrivere questo bel risultato è un bel problema ok? bene spero di avervi illustrato l'utilità è veramente una bella utilità delle formule di Viet alla prossima puntata è un bel risultato è un bel risultato è un bel risultato